Alberto Petracca, centrocampista del BRA, classe 2000, al termine dell'amichevole con il Corneliano Rero vinta per 4-1, in queste quattro reti c'è anche la tua firma, però io ti voglio chiedere, secondo te come ha chiuso il BRA il 2018 calcistico al di là del 0-0 con Sestre Levante? Hai visto una squadra in crescita? Sì, sì, assolutamente sì, io ho visto fin dall'inizio che la squadra aveva molta qualità e potenzialità per fare bene, poi abbiamo avuto qualche infortunio che ci ha un po' penalizzato, vedi Tettamanti, Bettati, Ghidinelli, però se troviamo un po' di continuità, come abbiamo provato a fare, riusciamo a fare bene appunto. Secondo te, visto che ci sarà poi dopo la sosta per Capodanno, domenica prossima si tornerà in campo, il BRA sarà ospite a Genova del Ligorna, uno scontro diretto anche per i play-off, che partita Alberto ti aspetti e c'è da aspettarsi? Sicuramente sarà una bella partita perché Ligorna è una bella squadra, noi andremo lì sicuramente con voglia di fare bene e fare punti, però loro si faranno sicuramente trovare pronti e noi cercheremo con tutte le nostre forze di fare punti perché ci servono. Invece riguardo al test con il Corneliano, al di là del 4-1, che partita è stata, come hai visto muoversi i tuoi compagni e come ti sei sentito tu al di là del gol? Allora, per il gol sono contento perché lo aspettavo, anche se in amichevole è comunque una cosa buona, positiva. La squadra l'ho vista bene, siamo stati ordinati, precisi, abbiamo appunto fatto quattro gol, quindi siamo stati anche concreti e abbiamo chiuso bene il 2018. Per chiudere ti chiedo di fare un auguri di buon anno ai tifosi giallorossi ma anche ai lettori di TheWebTV.it. Tanti auguri a tutti e ai tifosi vi aspettiamo allo stadio. Grazie.